Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con By The Numbers. Oggi ci occupiamo di Full Gear. Le cinque edizioni precedenti ovviamente a quello che sarà il pay-per-view che andremo a vedere tra pochi giorni. Un pay-per-view ovviamente che è stato costruito, si sta costruendo in modo molto lineare e che la All Elite ha sempre tenuto in forte considerazione. Full Gear è sempre stato uno dei pay-per-view principali, essendo ovviamente anche stato il primo pay-per-view AEW dall'inizio dei suoi show televisivi. Questo è uno dei dati che mi ha lasciato Sara, che ha ovviamente costruito tutta questa situazione molto interessante riguardo ovviamente i numeri di Full Gear. Io sono qui semplicemente a raccontarvi, a lasciarvi questa traccia e spero che sia di vostro gradimento essere chiaramente all'interno di questo programma. Io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast e partiamo subito proprio con alcuni dati che riguardano il mondo di Full Gear. Allora, Full Gear dicevamo, il primo è stato nel 2019. Giorno preciso? 9 novembre 2019. Giorno del 49esimo compleanno di Chris Jericho. E quest'anno è arrivato alla sesta edizione. In totale sono stati disputati 51 incontri. 42 nella main card, 34 maschili e 8 femminili. 9 nella zero hour, 6 maschili e 3 femminili. Hanno coinvolto in tutto ben 91 atleti. Considerando ovviamente le 5 edizioni precedenti, lo show in cui si è lottato di più è stato quello del 2021 con 2 ore e 50 minuti e 55 secondi. Il 71,22% della durata dello show. Ovviamente soltanto considerando la main card da 4 ore. Mentre quello che ha avuto meno lottato è stato quello dell'anno precedente, nel 2020, con 2 ore e 20 minuti e 50 secondi. Cioè il 58,68% di lottato. Cambia la questione, se si tiene conto anche della zero hour, dove ovviamente l'ottato minore è stato sempre quello del 2020 con 2 ore e 31,15 secondi, mentre quello con più lottato è stato quello del 2022 con 3 ore e 10 minuti e 20 secondi. Direi una cifra assolutamente importante sulle 4 ore. Passando invece allo show con più incontri, beh, è sempre lo show del 2022, quello che ha battuto tutti. Ce ne sono stati 10 considerando soltanto la main card e 13 inserendoci anche la zero hour, mentre quello con meno match disputati è stato il 2019 con 7 match per la main card, 8 complessivi se consideriamo anche quello del pre-show. Poi veniamo a un altro dato che mi interessa particolarmente, c'è l'incontro più lungo che è stato quello del main event del 2019 tra Kenny Omega e Jon Moxley, 38 minuti e 46 secondi. Vi ricordate? Lo consideriamo un main event noi perché sì, ma in realtà... un lights out match. Mentre il più corto è stato quello di Jade Cargill contro Nyla Rose, durato nel 2022 solo 7 minuti e 59 secondi, match valevole per il titolo TBS. Anche qua, insomma, dato interessante e poi verrà fuori ancora sul discorso dei match titolati. La maggior parte degli incontri della main card, 16, quindi pari al 38,10%, ha avuto una durata compresa tra i 15 e 20 minuti. 10 incontri, invece, il 23,81%, hanno avuto una durata tra i 10 e i 15 minuti, mentre 8, meno del 20%, il 19,05%, rientrano nell'intervallo di durata 20 minuti, cioè tra i 20 e i 25 minuti. sono soltanto 3 gli incontri che hanno superato i 25 minuti, ovviamente, e ovviamente uno dei quali ha superato la mezz'ora, quello di cui vi parlavamo prima, il match più lungo in assoluto, Kenny Omega contro John Moxley, sopra i 38 minuti in realtà. Quasi tutti gli incontri femminili, 6 su 8, quindi il 75%, hanno avuto una durata compresa tra i 10 e i 15 minuti, mentre invece gli uomini 15 su 34 sono stati tra i 15 e i 20 minuti, ovviamente il 44,12%. Nella Zero Hour, 7 incontri su 9, il 77,78%, hanno avuto una durata media tra i 10 e i 15 minuti, mentre i restanti 2 tra i 5 e i 10. Ovviamente cose importanti. Veniamo ai match titolati, perché in tutto ci sono stati 20 incontri titolati, e qui consideriamo solo i titoli AEW. I cambi di titolo su questi 20 incontri sono stati 8, un buon 40%. Considerando solo i titoli maschili, i cambi sono stati 5 su 13 incontri, quindi il 38,46%, media che non è così distante in realtà da quello femminile, dove i cambi sono stati 3 su 7 incontri, quindi il 42,86%. Diciamo che mediando il 42 e il 38, siamo circa sul 40% entrambi, quindi non è così distante. Ovviamente un'incidenza maggiore dove i match sono inferiori, però non è andato affatto male per quanto riguarda i cambi di titolo e la parità di trattamento. L'edizione con più incontri titolati è stata nel 2023, 7 incontri titolati con due cambi di titolo, il 28,57%, ed entrambi erano titoli femminili, quello di Tony Storm che ha battuto Icaro Shida e Julia Hart che ha sconfitto Chris Tetlander e Sky Blue in un 3-way per il titolo, ovviamente, TBS. L'edizione con meno incontri titolati è stata quella del 2019, a pari merito con il 2021, soltanto 3 incontri. Nel 2019 l'unico in cui non ci sono stati cambi di titoli, mentre invece nel 2021 Adam Page ha battuto Kenny Omega per il titolo AEW. Ma, 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 proseguiamo perché gli incontri si sono, insomma, compresi quelli della Zio Rawar, rivoluzionati così. 40 sono stati gli schienamenti, 6 sono state le sottomissioni, 2 volte si è vinto per resa, 1 volta per decisione arbitrale, 1 volta per K.O. tecnico con il lottatore che non riesce a rialzarsi per il conto di 10. 1 volta c'è stata una stipulazione particolare, il ladder match, e quella volta, ovviamente, è finito come doveva finire, con l'aggrapparsi in fondo alla cintura. Gli atleti che hanno partecipato di più, questa è interessante perché hanno partecipato a tutte le edizioni Young Bucks, Chris Jericho e Kenny Omega. E attenzione perché a questo punto, se non cambia niente, sarà Chris Jericho a fare l'ennesimo ingresso a full gear e diventare il lottatore che li ha fatti tutti. Per quanto riguarda le donne, nessuno li ha fatti tutti, però Britt Baker e Naila Rose, insieme ai Carushida, hanno fatto tre edizioni. Ed entrambe hanno lottato due volte nella main card, e una nella Zero Hour. Quindi, ovviamente, va bene così. Per quanto riguarda i lottatori più vincenti, Chris Jericho e MJF hanno vittorie in quattro edizioni, ma MJF in realtà cinque. Perché ha dovuto vincere due volte a full gear dell'anno scorso, quando ha lottato sia nel pre-show che nello show principale, in quanto doveva difendere i titoli Ring of Honor, Tag, ma anche il titolo del mondo dell'All Elite. Le donne, ovviamente, tra le più vincenti, Britt Baker e Icarushida, che hanno vinto entrambe due volte. Per i debutti, non ho fatto il banner, ma c'è stato un solo debutto in tutta la storia di full gear, che è stato quello di J. Little, nell'edizione del 2021. L'edizione che ha avuto il maggior numero di lottatori presenti è stata quella del 2022, con 45 lottatori che sono stati coinvolti. Mentre, se si considera solo la main card, il primato va all'edizione del 2021 con 34 atleti. L'edizione con meno atleti nella main card è stata quella del 2020, soltanto 18, che rimane quella anche con meno partecipanti, considerando ovviamente anche la Zero Hour, con 20 atleti in totale. C'era solo un match, probabilmente, quindi poco da fare. Parlando di donne, invece, l'edizione con maggior presenza femminile è stata quella della main card, ovviamente, del 2022, con 6 atlete, mentre nelle prime tre edizioni non si sono superate le due presenze femminili. E anche se nel 2021, nella Zero Hour, hanno lottato altre 4 donne, se ne consideriamo soltanto la main card, non possiamo fare diversamente. Come minutaggio, l'edizione che ha lasciato più spazio alle donne è stata quella del 2022, con 36 minuti e 40 secondi, il 23% del lottato totale. Andiamo a chiudere con i giovani, i nostri cari giovani, che ne diamo sempre un'occhiata con grande rispetto e cuore. I giovani impiegati nelle 5 edizioni sono stati 20, quindi il 21,98% sul totale dei lottatori utilizzati, compresi le Zero Hour, ovviamente. Di questi 20 giovani, 5, quindi il 25%, erano donne. Il lottatore che ha partecipato a più edizioni di Full Gear prima dei 30 anni, MJF, che ha partecipato a 4 edizioni e non ha ancora compiuto 30 anni, seguito a ruota con 3 partecipazioni da Darby Allin e Sammy Guevara, che però, avendo entrambi superato quota 30, al momento MJF è imbattibile. Mentre per le donne, tutte e 5 le giovani hanno partecipato una volta soltanto. Quindi le rende per forza all'interno. Molte cose molto interessanti, speriamo per tutti, anche molto belle. Sono uscite da questo By The Numbers, ovviamente terremo aggiornati i dati di Full Gear e chissà un giorno potremo anche uscire nuovamente con un altro dei nostri percorsi dedicato a questo storico pay-per-view. Per il momento vi saluto, vi ringrazio, vi chiedo di seguire il video fino alla fine perché adesso ci sarà uno spot molto importante. Chi ci segue da tempo lo sa ormai e immagino, voglio immaginare, che ci sia qualcuno che lo imparerà a memoria. Quindi ascoltatelo in tutti i video che facciamo, dove lo mettiamo, lo mettiamo, ma voi fate i bravi e iniziate ad acquistare il nostro bellissimo libro sulla Orelite. Vi saluto, vi ringrazio, con By The Numbers l'appuntamento è fra due settimane, ci fermiamo ovviamente durante la settimana di Full Gear e tireremo fuori ancora delle cose molto belle, molto interessanti, stiamo facendo cuocere a fuoco lento un bel po' di dati grazie a Sara che ovviamente si sta sbattendo tantissimo per fare questa roba, la ringraziamo di cuore. Come ringrazio tutti quanti voi, ci sentiamo alla prossima. È uscito il primo libro sulla storia della All Elite Wrestling, l'abbiamo scritto noi di AW Italian Podcast e in 283 pagine abbiamo raccontato la storia, la genesi fino ad arrivare all'annuncio storico da parte dell'Elite della nascita della compagnia. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che digitale solo su Amazon, quindi potete raggiungerlo con il link che trovate in descrizione e poi farci sapere con un feedback che cosa ne pensate di questo lavoro che stiamo facendo in cui cercheremo di raccogliere tutta la storia della All Elite Wrestling.